Con una cerimonia al CONI di Roma si è conclusa la quarta edizione di Estra per lo sport raccontare le buone notizie il premio riservato ai giornalisti di carta stampata di tv e radio web e blog Estra per lo sport Gianluca Pasini, la gazzetta dello sport, Raffaele Nappi, il fatto quotidiano.it, Monica Matano, Rai Sport sono i vincitori nelle rispettive categorie della quarta edizione del premio giornalistico Grande successo del concorso giornalistico Estra per lo sport raccontare le buone notizie le recenti premiazioni hanno sancito i vincitori su una selezione di 300 servizi tra quelli presentati alla quarta edizione Selezionate a Prato le prime 5 start-up del progetto Prisma, il programma per l'innovazione del distritto Tessile cui aderisce anche Estracom, la società di telecomunicazioni del gruppo Estra Grazie